buonasera finale del galà del treno ecco le due questa sera saranno due domande la prima perché le casera alta non hanno mai circolato sulla linea l'ecco sonrio a perché sono troppo alte e quando si provò a farle entrare nelle gallerie non ci passarono lettera di perché non vi è mai stata la necessità seconda domanda esistono ancora i treni di categoria interregionale in italia lettera a si lettera di no